L'Ulss 7 ha pagato gli straordinari del 2020 e del 2021, ma si tratta di quelli dei medici. Quelli di infermieri, operatori sociosanitari e tecnici invece sono ancora in parte scoperti. Questo dato emerge da una nota ufficiale inviata dall'azienda sanitaria diretta da Carlo Bramezza, nella quale si smentisce che non siano stati pagati gli straordinari dovuti ai dipendenti. La Direzione delle Risorse Umane precisa infatti che gli straordinari sono stati pagati ai medici per le due annualità, per un totale di 2 milioni e mezzo di euro. Quindi i medici sono stati pagati, mentre per infermieri, operatori sociosanitari e tecnici siamo a metà del guado. Non aveva quindi affatto torto il Vice Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che sull'argomento degli straordinari non pagati ha formalizzato un'interrogazione alla Giunta Veneta. Resta da capire, e questo non è riportato nella risposta dell'Ulss al Servizio di Rete Veneta, se effettivamente, come suggerisce il Consigliere regionale, questa situazione sia relativa solo all'azienda sanitaria pedemontana. E resta da capire anche perché ci sia una disparità fra medici, infermieri, operatori e tecnici, tutti uniti quando c'era da combattere il nemico silenzioso, ma separati nei bilanci.